Ritrovarsi tornando alle origini è la missione che Medidorval sta portando a termine in questi primi due mesi e mezzo di regular season con la maglia del Bari. Il laterale, che a destra aveva fatto vedere ottime cose nella linea difensiva 4 nel primo anno in B, salvo calare vistosamente e rischiare la retrocessione in C con il resto della squadra nella scorsa stagione, sta tornando a far vedere tutte le qualità che lo avevano portato all'attenzione di Ciro Polito e Michele Mignani all'epoca di esse allenatori bianco-rossi nell'estate 2022. Riportato sulla fascia sinistra, quella sulla quale aveva fatto solchi sui campi della Serie D pugliese con Fasano prima e soprattutto audace Cerignola poi, il 23enne nato a Parigi ha ripreso a far vedere tutto il suo repertorio, dribbling, sfrontatezza, capacità di saltare l'uomo, aggiungendo un'attitudine extra, il feeling con il gol. Ne aveva segnati due, uno con il Bari, uno con il Cerignola nelle prime 116 partite nel calcio italiano, ne ha firmate altrettanti sin qui in nove presenze in campionato. A pagare le spese dei suoi tagli al centro dell'area sono stati il Frosinone alla sesta giornata e il Catanzaro nello scorso weekend. Per Gegé Gerson, bandiera bianco-rossa negli anni 90, ospite dell'ultima puntata di Chiacchiere da Bari, la vera sorpresa della stagione 2024-25 e proprio lui. La sorpresa secondo me è Durval, perché anche nel suo intervista si vede chi sta più sereno, ha tolto proprio quel peso, perché nel modo che fa il Bari oggi, lui sta facendo pure i gol, ma sta sempre dentro l'area. È quello che devono fare, secondo me, le mezzale, che devono invadere l'area e lì c'è più gente e infatti non fica molto preoccupato con questo arrivo di esterne del Bari e lui sta sempre a impegnare. Quello, secondo me, è un fattore importante. Moreno Longo, prima della sfida al Catanzaro, gli aveva chiesto più coraggio negli ultimi 20 metri. Durval ha risposto con un tocco da attaccante puro per battere Pigliacelli per il provvisorio 1-0. Le sue prestazioni in estate lo avevano portato a scavalcare Ricci, poi passato al Cosenza nelle gerarchie dell'allenatore. Una botta presa alla prima di Coppa sul campo della Cremonese ne aveva condizionato le prime uscite in campionato, fino alla panchina di fine agosto a Genova con la Sampdoria. Dopo la sosta di inizio settembre ha ripreso a macinare chilometri e proporre idee in corsia. Qualcuno, tra i tifosi sui social, lo paragona anche per la folta chioma all'ex madridista Marcello, lui è semplicemente Medì, il destro che a sinistra ha ritrovato la sua dimensione.